Mmm, prigione numero 1, prigione numero 2, prigione numero 3 E dice difficoltà facile, medio e difficile Ok Qua c'è il nostro equipaggiamento Ok Il classico, non mi sembra ci sia niente Allora, iniziamo a indossare l'equipaggiamento Iniziamo a prepararci E qua abbiamo il telefono Vediamo un po' che cavolo ha preparato Eni Ciao Natene, mentre è sempre bello vederti Allora, Red Ciao ragazzi, oggi dovete affrontare tre prigioni diverse Vi lascio un po' di equipaggiamento in queste ceste Non sarà facile, buona fortuna Facina da gatto O facina da volpe, dato che a lui piacciono le volpi Secondo me la volpe Ok, non sarà facile Mi sembra un po' una sfida questa, Fer Secondo me lo è Evidentemente ci ha preparato tre prigioni E noi dovremmo affrontare Hai letto cosa succede quando cammini? Sì Adventure mod Non ci permette di barare, Fer Ok Aspetta, Steph Ok, non mi aveva fatto entrare Allora, 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 allora Calmi tutti Mi stai facendo capire che sono tre prigioni Ok, credo tre difficoltà diverse Diventa sempre più difficile Ed è una sfida contro Eni a dover riuscire ad evadere E per il più ho messo tutte le cose per non farci barare Cioè noi non possiamo rompere i blocchi Steph, allora, vieni qua Sì, dimmi, dimmi Guardiamoci in faccia No, no, qui, 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 qui Ok, aspetta Dobbiamo guardare in faccia Sì Siamo fregati Perché noi non sappiamo mai risolvere le cose che ci fa Eni Di solito bariamo per farla Appunto Cioè, buchiamo cose che non dovremmo Esatto Comodino, ci sarà qualcosa No, non c'è nulla No, non c'è niente Ho già controllato io Allora, qua dentro Qui dentro, qui dentro Ho trovato una tessera Tieni L'avresti mai detto Ma c'è una cesta nascosta Opla Opla Furbo Eni Furbo Ok, aspetta, 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 aspetta Aspetta, 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 aspetta Allora Noi, come abbiamo detto, non possiamo bucare nulla E lì ci sono due poliziotti Salve Salve Nel suo gabinetto c'è qualcosa No, non sembra Allora, cerchiamo Nella sua pianta Nella sua No, non c'è niente Troppo semplice Continuiamo a visitarle tutte? Sì Magari c'è un'arma nascosta Allora, lui è inutile Niente Stiamo facendo una roba inutile Allora, i culodini non si possono aprire Quindi Steph Non li guardiamo neanche Controlla i vasi I vasi c'è sempre qualcosa Niente Non c'è mai nulla Quindi Sì, c'era una tessera Una volta Sono tutte vuote Niente E poi non rientrare nella mia Tanto faccio un tempo io a controllare Niente Mi sa che ci tocca appestare i poliziotti Sì, anche perché Qua non posso entrare Lo sai Dice livello 2 Qualcosa vorrà dire però Se è quella di livello 2 Tienilo a mente Tienilo a mente Quella lì è di livello 2 Pronta? Aspetta, voglio controllare meglio Non è che magari c'è qualche cesta nascosta Fai, 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 fai Fai uscire Hai la tessera a te Maledetta Maledetta Mi serve una mano Non sembrano di quei poliziotti Proprio in gamba, eh Occhio, occhio Però sembrano forti Cerchiamo di picchiare lo stesso Ok Perché se no qua non finisce Dai, dai, dai Ne abbiamo capatato uno Fai adesso stanno rimanendo a terra Quindi questi qua torno in vita Non hanno droppato nulla Eh, questo è un problema Ma dici che dobbiamo visitare il tele chest? Non è che adesso possiamo uscire? Hai provato? No, come si esce da qui? Eh Guarda i vasi qua Qua, Steph Qua, 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 qua In questo Scappa, scappa Cavolo, scappa, 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 scappa Ok Ok, il vaso a sinistra Approfichiamone Lo stendiamo di nuovo, no? C'è esatto Qualche secondo Qualche secondo di vantaggio Ok Eh, che forti Vabbè Occhio Ah, lo vedi attaccare Va bene Ti do una mano, ti do una mano Beh, già che ne stendiamo Lo stendi pure Perché se qua è la prigione Più facile Sinceramente è proprio Al nostro livello Vieni, vieni, vieni E qua, è qua, è qua Ah, l'hai già presa Perfetto Ciao Per caso avete trovato una bambola? No No, vero Cioè, ho le mie bambole qui Ma non gliele posso dare No, possiamo aiutarti? Una bambola ci dà due enderpearl Ok Vabbè Hai mai visto una bambola? No E' quello il problema Perché vuoi una bambola? Sei un po' inchietante Cioè, no, Steph E poi mi lascia sempre chiusa qui dentro C'era qualche altra prigione di livello 2 Che possiamo aprire? Non credo A meno che non sia Aprimi Accidente a Steph No Mi vuoi lasciare in prigione Niente, raga Niente Ok, bambola, bambola Ragioniamo Magari un messaggio in codice No, è proprio una bambola Ah Fatta come? Perché non l'ho visto? Eh, per la bambola della DecoCraft Ok, ok, ci sono Tieni questa, comunque L'ho trovata, Steph Ovviamente, se non ci sono io qua Ti Ok Ok, grazie Ti ho lasciato una chiave perché con quella puoi entrare in tutte Tranne che quelle di livello 2 Tanto io con quelle di livello 2 posso fare tutto Sì, ecco te Ah, ecco te Due per Fere, sai che se la sprechiamo Eh, sì Occhio, non tenerla come arma da usare al momento Ma l'hai ripresa a te, Steph Ok Pronta Ho capito Vai Prima li ristendiamo per sicurezza? Sì Io ho capito come dobbiamo fuggire Tu l'hai capito? Cioè, da quel buchino? Sì, dobbiamo tirare l'ender perle lì E riuscire a fuggire Io te l'ho detto La difficoltà 1 è la nostra difficoltà Quindi io penso che la media è la difficile L'ho fatto Grazie Sono fenomenale Non ho avuto neanche bisogno di sprecarmi O di impegnarmi in questa sfida Grazie Allora Prigione numero 2 Lasciamo le chiavi, giusto? Non lo so, per sicurezza Tienila ma non usarla Non usiamole perché non so se ci creano vantaggi nelle altre prigioni Che non No Ok Ok Aspetta, 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 aspetta Abbiamo già perso? Sì Aspetta Dai no Trovato Ok Oh Cavolo Ma siamo pazzi C'era anche l'ambulanza fuori, Steph Chiamali Qui ci portano via Ti prego Perché moriremo qua Cavolo Raga che facciamo? No, no, vieni qua Vieni qua Perché lì poi mi attiri pure gli altri Vieni qua Cavolo, Steph Siamo fregati Io sono quasi morto No, non morire Sto recuperando vita Ok, uno lo tengo io Uno steso Sì, ma il problema è che questi puoi tornare tutti in vita Secondo te dobbiamo usare la chiave che abbiamo già? Non lo so Non ho dato disposizioni su questo Vado a controllare i due vasi lì in fondo È l'ultima cosa che posso fare Sì, se non c'è nei vasi vuol dire che Ne ho pensato che dovessimo usare quelle chiave Dai, secondo te devi entrare, ne andiamo Ok Ok, chiudi Allora, ho trovato una chiave Di livello 1 Qui dentro? Sì, se vuoi tieni Ok, grazie Ok No, non me l'ha data Ah, sì Ce l'ho qua Ha posito Che facciamo? Cioè, tornano in vita costantemente Che cosa dobbiamo fare per fuggire stavolta? Non lo so, Steph Non mi chiudere però dentro Ti prego Ce l'hai fatta? Sì, sì Sto già picchiando Ok Comunque le cellule hanno dei numeri Sei 6, 1, 3, 9, 1 Che vuol dire sta roba, Steph? Non lo so Però sto cercando di visitarne il più possibile adesso Per togliermi i dubbi Ho trovato un libro Ok, leggilo, leggilo Leggilo Allora 7 inizio destra 8 fine sinistra Cioè, c'è scritto 7 inizio destra e 8 sinistra Sì No, dai Eni, ti prego Ci ha messo pure l'indovinelli Perché sei così cattivo? Eni, ti odiamo Facciamo una nuova canzone Eni, ti odiamo Vai Ti piace? Inizia Pensa a killare Oh, quanto siete resistenti Ok Ah, io devo sentire questi due Allora, vediamo questi Al volo questi barili Niente Quindi sì, dobbiamo usare penso le chiavi che avevamo già Sì, sì, sì Non c'è la soluzione No, lì c'era una bambola, Fred Ce l'ho già io Ah, ok Di nuovo Ma qua sono fissati con le bambole A quanto pare, sì Ok Perfetto Allora Porca miseria Uno Non c'è nulla Tre Devo controllarle velocissimo Ma poi, Steph Sì, ho sbagliato Dov'è l'uscita? Non lo so Sette Non c'è nulla E Zero Perché mi siedo sempre nel water Non c'è nulla Vediamo qua Allora, era Sette Inizio a destra Otto Fine a sinistra Sette Non capisco Più lo leggo o meno lo capisco Ok, io Steph, sto morendo Steph, sto morendo Sette, inizio a destra Uh, fammi mangiare Sono praticamente morto Vai, mangia, mangia, mangia Un cuore e mezzo Tengo io Sette inizio a destra Ragazzi, ne sono due Numeri sette Ah, Steph, guarda L'hai capito? Qua Dove sono io in questo momento C'è un codice da inserire Ah, ok Pensavo avessi capito qualcosa di più importante Sette inizio a destra Otto inizio a sinistra Sto ovviamente controllando la settella Al momento Evidentemente Evidentemente Sette inizio a sinistra I cavoli di numeri sparsi Veloce, io perché ascolto a te Perché ascolto a te Veloce, veloce Muori poliziotto Porca miseria, Steph Fede, quella sarà la terza prigione Guarda Guarda il mio schermo No, no, la voglio vedere Non mi interessa Allora, raga Noi per fare la difficoltà media Siamo rimasti bloccati 15 minuti Per colpa di Steph aggiungere Perché gli dicevo Steph, dimmi tutta la serie di numeri Niene, niene E lui di volta Mi stavano pestando Mi pestavano Con che logica Con che logica del cavolo Tu mi stavi dicendo quei numeri Dimmelo, ti prego Allora, questa cosa La sappiamo già fare Opla No, ma aspetta però Quanta gente c'è lì sotto Vai a scoprirlo, Steph Tu meriti Dopo che ci ha fatto perduto A me stanno snervando Ok Chiudi, chiudi Ok C'è qualcosa, no? No Bene Bella questa prigione Fatta così Molto bella Molto bella Molto cupa Esatto Ok Io ormai ho capito Che loro dentro qua Non gli piace Stavo per portare dentro, vero? Sì, hai rischiato Esatto Quindi andiamo velocissimi Nelle celle E cerchiamo di scoprire I più indissi possibili O scemo Oh, anche attraverso Oh 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 Che stai a fa' Lì comunque c'è della lava E se riusciamo a buttarli Poi nella lava È ottimissima Ah beh, è vero Non ce l'avevo pensato Allora, ho trovato una card Di livello 1 Credo, sempre Non ce ne facciamo nulla A questo punto Ma siamo pieni Ok Devo riuscire Bene la lava Bene la lava Ad arrivare Oh cavolo, mi stanno uccidendo Sono troppi Sono morta Sono morta Ok 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 Ne ho controllato parecchie Le guardie sono aumentate ancora di numero I codici sono sempre più incomprensibili C'è della lava che fa paura Sì Che si vuole di più 3 2 Allora Io non ho capito poi qual è l'uscita Ah, l'uscita è da quella parte Mi sa che corro Trovate un libro Corro, vado a vedere che c'è Allora No Questo è quello di prima Allora, non voglio mai più leggerlo Ti dico già Ok, sono morta per scoprirlo E penso che finirò di morire Allora, praticamente nella porta Non c'è nessun codice da inserire Ma c'è una fessura Come quella della prima prigione Ma molto più piccola Però C'è di nuovo scritto 7 inizio a destra 8 fine a sinistra 7 inizio a destra 8 fine a sinistra 7 inizio a destra 8 fine a sinistra Ma davvero? Sì Lava come lava Eh? La lava non fa male quindi Come lava Come l'ha scritto? Con la H Eh Tipo Era con la pubblicità del detersivo Che diceva Boh Per lana come lava Non mi ricordo qual era Però forse lava Nel senso che ti lava E quindi è Tipo acqua Quindi finta lava Non lo so Io sto bruciando Io sto bruciando Ok Allora La cosa positiva Che i codici delle porte Ho notato che sono gli stessi Della scorsa prigione Quindi ce li abbiamo già scritti E boh Non ho altri indizi Steph Io penso di aver capito Che l'hai capito? Come fuggire? E come l'hai capito? Cioè che dobbiamo fare? Non l'ho capito Io qua però stavo sprofondando Steph Ha ragione allora Sì Il problema è che Con le guardie che ti picchiano Ci vanno fatte fuori Vi prego Basta Mi state portando All'esasperazione Oggi Non ce la posso fare Continua così oggi Non è che bisogna trovare Anche qualcosa Per essere immune ai danni? Sì Evidentemente Qualche pozione Di fire resistance L'ho trovato L'ho trovato Cos'era? Cioè Non sono riuscito a prenderla Una Chest Sotto Quello di destra Dell'entrata Ok vai Cavolo Ne ho preso uno di due L'ho presa L'ho presa L'ho presa L'ho presa Muoio però l'ho presa È ok Ma adesso qual è Poi il posto Da cui si evade? Eh che cavolo Ne so Perché se noi sbagliamo E ci ammazzano i poliziotti È finita Certo Raga non si capisce Anche perché non abbiamo Propendizi che ce li indicano Quindi io butta fino alla lava Tu muori pure te Sai che forse da sto punto Dobbiamo chillare i poliziotti una volta E provare Sì Le due dell'entrata Dobbiamo provare Dici? Sì Vabbè quella dove c'è Ah no quella del retro Però li hai già ammazzati molti Approfittiamone Io sono praticamente morta Riesci a resistere? Sì No Vabbè torna da me E basta Ok Adesso rispondono Li richilliamo E controlliamo Eccolo dietro di te Uno Eh buonanotte Ferri non ti addormentare No non mi sto addormentando Steph Eccoli di nuovo Mangio Non fa Tornano troppo in fretta Non è questo Vero Eh Steph Non lo so No Stanno picchiando Sì muoio Non lo so Steph È impossibile da capire Non ti so dire Vero Non ti so dire È impossibile Cioè troppe guardie L'ho lavati shot Non abbiamo trovato altri indizi Quindi è davvero impossibile da capire Ce l'hai fatta Era quella? E avevo ragione Alla sono maledetto Verso l'alto Non verso il basso Avevi sbagliato Dovevi andare verso l'alto Ferri Ok Ce l'hai Non so se essere felice Posso andare adesso a sdraiermi A dormire due ore Dalla famiglia Ah penso va a pestare Eni Anche Anche sì Adesso guarda Quando finisco Vado su Discord E lo insulto Steph Perché io dico Mi si deve più fermata A fare robe del genere Porca miseria Che casino Cioè tu ti aspetti Che ti faccia una mappa carina Abbastanza semplice Perché sa che siamo scemi E invece no Si diverte Perché poi lui si guarda i video In ridacchia Capito? Quindi mi stai sentendo Ora ti pesto Eni So dove abiti Quindi ti pesto Ecco E so davvero dove abita Ci fermiamo così Qua sotto Compaio in altri video Iscriviti al canale Campanellino E ci vediamo in un prossimo video Ciao 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 ciao